La Lega si mobilita contro il caro Pedaggi con manifestazioni di protesta in tutto il nord Italia. Questa mattina, guidati dal segretario Matteo Salvini e dal presidente Umberto Bossi, un folto numero di simpatizzanti del carroccio si sono ritrovati al casello autostradale di Gallarate, in provincia di Varese, per protestare contro un aumento ritenuto ingiusto. Al suo arrivo Salvini non ha pagato il biglietto. L'Italia è uno stato razzista nei confronti del nord, perché, ripeto, le autostrade al sud le ha pagate lo Stato, quindi anche i cittadini di Gallarate, e sono gratis. Le autostrade al nord se li sono pagati i cittadini, quindi anche i cittadini di Gallarate pagano. Cioè noi abbiamo pagato tutto e paghiamo a casa nostra. Gli aumenti penalizzano maggiormente le regioni del nord, con un più 4,43%, per i tratti di competenza delle società che gestiscono le autostrade, e di circa 4,47%, invece, sui tratti della Milano-Serravalle, concessionaria del sistema delle tangenziali milanesi. Si tratta di un vero e proprio salasso, dicono i manifestanti, contrariamente a quanto avviene al centro-sud, dove tratti, come il grande raccordo anulare di Roma, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la Palermo-Catania, il pedaggio non si paga. L'atto eversivo è chiedere 8 euro per andare da Milano a Come e tornare indietro. Questo è un atto da dementi, è un atto da ladri, è un atto da truffatori. Mentre se uno gira sul grande raccordo anulare di Roma, può farlo per sei mesi, non paga una lira, se uno fa i 400 chilometri della Salerno-Reggio Calabria e non paga una lira, i nostri pendolari, i nostri disoccupati, hanno le palle piene, quindi rischiamo qualcosa. Sì, chi se ne frega, ma tanto, piuttosto che andare a morire, rischiamo qualcosa. Lega a parte, nei prossimi giorni la situazione potrebbe farsi più pesante, dopo l'annuncio che contro il caro pedaggi si mobiliteranno anche i forconi e le associazioni degli autotrasportatori.